Buonasera, come anticipato in questi giorni oggi sul Telemontegronio il confronto tra i candidati a sindaco che si contenderanno domenica prossima 25 giugno l'elezione nell'ambito del turno di ballottaggio dopo il primo turno dello scorso 11 di giugno. Ve li presento il dottor Calogero Bono, candidato a sindaco dello schieramento di centrodestra, l'avvocato Francesca Valenti, candidata a sindaco dello schieramento di centrosinistra. Ci siamo dati un metodo di domanda e risposta cadenzate da un cronometro perché vogliamo tentare di affrontare diversi argomenti che sono al centro del dibattito pubblico, non solo quelli politici ma anche quelli che riguardano i temi amministrativi. Il primo argomento, cominciando dando la parola al dottore Bono, riguarda la questione dei tributi che continua ad essere al centro della discussione. Sappiamo che entrambi i candidati in diverse occasioni precedenti hanno escluso la possibilità che il Comune possa dichiarare il dissesto finanziario. Tuttavia c'è la consapevolezza che la situazione è particolarmente difficile, il Comune ha diversi debiti. Ci si domanda dal punto di vista della pressione fiscale che cosa sarà possibile fare, cosa si può immaginare. Anche rispetto al fatto che bisognerebbe probabilmente promuovere delle iniziative in favore della lotta all'evasione fiscale, visto che c'è un problema di questo tipo, anche se non c'è soltanto un'evasione da parte dei cosiddetti furbi, ma c'è anche un'evasione, se possiamo definirla così, da parte di cittadini che per esempio sulla Tarso Tari, come si chiama oggi, non sono stati in grado di pagare. Vorrei cominciare il primo giro con Calogero Bono. Intanto la situazione finanziaria del Comune di Sciacca possiamo dire che è difficile, ma non disastrosa. Ci sono sicuramente delle posizioni debitorie piuttosto pesanti, mi riferisco ad esempio a debiti fuori bilancio, che però ad oggi montano circa 3 milioni di euro, mentre fino a qualche anno fa sfioravano i 10 milioni di euro. Ci sono dei debiti verso la Cassa, depositi e prestiti per la finanza di lungo periodo, così come c'è una situazione di liquidità piuttosto difficile, che va sicuramente tenuta sotto controllo. Quindi c'è una situazione generalizzata di difficoltà finanziaria del Comune di Sciacca, ma non tale da poter rischiare il dissesto finanziario di cui si è parlato tanto in queste settimane. C'è sicuramente anche uno squilibrio fra le entrate e le uscite correnti, ma all'orizzonte ci sono delle entrate straordinarie, mi riferisco ad esempio ai contenziosi con Aeroviaggi, uno dei quali tra l'altro a ottobre andrà a sentenza definitiva, che potrà portare liquidità nuova nelle casse del Comune. C'è una situazione ancora EAS, ancora su una particolare procedura da recuperare, così come c'è una questione con l'ASP di circa un milione di euro per rette di ricovero pagate in precedenza, in maniera differente rispetto a quello che diceva la norma. Quindi c'è sicuramente una situazione che va recuperata e che potrà essere messa in regime. Cosa diversa è invece la tassazione, con particolare riferimento all'Imu e alla Tarsu, così come alla Tari, così come alla Tasi, che sono le tre imposte e tasse principali su cui si basa poi la finanza del Comune. Da più parti viene paventata l'esistenza ancora oggi di una sacca di evasione, soprattutto sulla Tari, quindi sulla tassa per la raccolta dei rifiuti, quindi occorre mettere in atto dei meccanismi che possono scovare gli evasori e quindi trovare nuova linfa per il meccanismo generale che poi copre il servizio di raccolta dei rifiuti, che consentirebbe tra l'altro, trovando nuovi evasori, nuovi soggetti su cui far pagare l'imposta, potrebbe consentire anche una diminuzione della Tari rispetto agli altri cittadini, perché il meccanismo della Tari è tale che devi coprire il costo del servizio. Quindi se trovi altri soggetti che debbono pagare, puoi far diminuire l'imposizione. Per questo il Comune deve potenziare l'ufficio tributi, ma può anche fare ricorso a delle risorse umane esterne, ecco perché tra l'altro io penso di far affiancare l'ufficio tributi da soggetti esterni, e tra l'altro in queste settimane e mesi l'ufficio ha già avuto dei contatti con delle società esterne che possono affiancare, non sostituire, l'ufficio tributi. Avvocato Valenti, a lei la parola, un attimo che azzeriamo il cronometro, lo rimettiamo, eccolo, a lei la parola, prego. Sì, anche io ritengo che non ci siano gli estremi di un dissesto finanziario. Gli interventi che vanno effettuati sono interventi strutturali. Cosa significa? Sul fronte delle entrate. La prima cosa che va fatta, va istituito un team stabile che si occupa esclusivamente di intercettare finanziamenti e di andare a predisporre tutti i progetti che possano consentire di fare affluire nuove risorse finanziarie. E questa è una cosa indispensabile in un momento in cui il Comune subisce le conseguenze di trasferimenti minori rispetto agli anni passati. Per quanto riguarda il fronte delle entrate poi tributarie, come io ho sempre sostenuto in queste settimane, non è soltanto un problema di lotta all'evasione, perché poi il problema è molto più ampio. Vanno rivisti tutti i regolamenti tributari, va ridistribuita la pressione fiscale, vanno intercettate delle modalità di accertamento fiscale che in questo momento secondo me non funzionano appieno. E fatto tutto questo si deve fare in modo che i cittadini possano avere una minore pressione fiscale e soprattutto possono ben capire a cosa servono i soldi che pagano al Comune e per che cose effettivamente vengono utilizzati. Quindi revisione dei regolamenti, ridistribuzione del carico fiscale, prevedendo anche altre esenzioni, altre esclusioni, una rimodulazione dell'imposta di soggiorno, cioè una revisione dell'intero sistema che faccia scendere la pressione fiscale sui contribuenti. Quindi non soltanto lotta all'evasione, ma modalità di accertamento nuove, modalità anche che portino a venire incontro alle esigenze dei cittadini, con meccanismi di conciliazione, di accertamento con adesione, di autotutela, cioè tutte quelle cose che possono andare incontro ad un momento difficile per i cittadini saccensi. Con riferimento poi sempre ovviamente a quello che è l'ambito finanziario, ovviamente va rivisto il sistema della spesa perché vanno tagliati i costi sterili, e lì soprattutto va riprogrammata la spesa con un programma vero e proprio, in maniera tale che si possa spendere meno e soprattutto si debbano evitare assolutamente quelli che possono essere gli sprechi. Quindi una visione molto ampia che parte dall'intercettazione dei finanziamenti, dalla revisione del sistema fiscale e ovviamente dal taglio delle spese e da una migliore progettazione e programmazione di quelli che sono i costi. Peraltro a questo proposito la necessità di istituire un piano biennale degli acquisti aiuta perché dà un'idea programmatica che forse fino a questo momento non è stata attuata. Fatto ciò non credo che ci possa essere il rischio di dissesto finanziario, né tantomeno che i cittadini possano subire un prelievo maggiore di quello di ora. Anzi, io veramente, la mia idea è quella di far abbassare la pressione fiscale. Grazie per essere stati nei tempi, naturalmente. Continuiamo con il secondo argomento, ripartirò dall'Avvocato Valenti e poi voi naturalmente amministrerete il tempo che avete a disposizione per eventuali riflessioni sugli interventi precedenti. Ne ha fatto cenno l'Avvocato Valenti l'utilizzo della tassa di soggiorno. Noi in questo momento identifichiamo questo tributo associandolo al Carnavale in buona sostanza perché il Carnavale di Sciacca, che è una festa importante sul piano della tradizione e anche, diciamo così, della promozione, si finanzia attraverso questo tributo. Ecco, la domanda è questa. Posto che, evidentemente, abbiamo appreso dai vostri interventi precedenti, non si può finanziare il Carnavale interamente con la tassa di soggiorno. La domanda si compone proprio di due aspetti. Come gestire questa tassa di soggiorno e come finanziare il Carnavale eventualmente? Certo. L'imposta di soggiorno è un tributo di scopo. In questo momento lo scopo è quello della promozione turistica. Questo significa promozione del turismo a 360 gradi, che non è solo il Carnavale. Il Carnavale è un capolavoro saccense che va promosso, va valorizzato e tramite un'attività di promozione e valorizzazione vera si può tentare ad avere un sistema di autofinanziamento del Carnavale che ovviamente incida meno sulle casse del Comune e meno che mai sull'imposta di soggiorno. A questo punto l'imposta di soggiorno va utilizzata, dicevamo, per fini veramente turistici. Ma i fini turistici sono molto ampi perché ricomprendono il decoro della città, perché ricomprendono il turismo culturale, perché ricomprendono il turismo sportivo, perché ricomprendono il turismo anche religioso, il turismo che nasce come ritrovamento dei percorsi naturalistici e delle bellezze della nostra città. Tutto questo deve essere promosso tramite l'imposta di soggiorno. Peraltro quando io dico che va rivisto il regolamento dell'imposta di soggiorno significa anche che secondo me può essere ampliato lo scopo di utilizzo dell'imposta di soggiorno, soprattutto con riferimento ad un decoro e quindi un'attività di manutenzione a fini turistici della città e poi anche forse con una revisione delle tariffe, perché comunque per certi versi forse non sono adeguate a quella che è poi l'offerta turistica saccense. Tutto questo consentirà di avere maggiori risorse, maggiori risorse da utilizzare per la promozione di sciacca, delle sue eccellenze, non volendo dimenticare le eccellenze anche artigianali, quindi la promozione della ceramica, del corallo, la promozione di tutto quello che può portare a far conoscere sciacca in Italia, nel mondo e che può consentirci di avere veramente una spinta verso l'alto. E in questo ci aiuta anche il momento, perché sono stati stanziati diversi fondi, a prescindere dall'imposta di soggiorno, che vedono in coincidenza con Palermo, capitale della cultura, per una promozione del turismo in Sicilia, destagionalizzato, addirittura si parla di 300 milioni di euro da destinare al turismo in Sicilia, ovviamente sciacca deve entrare in questo circuito e deve esserci per poter avere una promozione del territorio che in questo momento è stato assolutamente dimenticato. Allora, rinuncia evidentemente agli altri 25 secondi che rimanevano. Calogero Bono, utilizzo della tassa di soggiorno e poi come finanziare il carnevale? Sì, intanto parliamo di imposta di soggiorno che è stata istituita qualche anno fa dal Comune di Sciacca, voluta dall'amministrazione di Paola, attraverso l'approvazione di un regolamento in Consiglio Comunale. Il regolamento stesso prevede che il gettito dell'imposta di soggiorno venga concertato con il Consiglio Comunale, quindi con un apposito tra l'altro commissione che si riunisce fatta da componenti del Consiglio Comunale, da parti sociali che prima del periodo di imposta offrono all'amministrazione comunale il loro supporto per vedere come il gettito dell'imposta di soggiorno possa essere distribuito nelle diverse attività. Questo è stato fatto nel corso degli anni e l'imposta di soggiorno non va a coprire, non viene utilizzata totalmente, non è stata utilizzata totalmente per finanziare il carnevale, ha avuto già di per sé altri scopi. È chiaro che bisogna fare meglio, mia intenzione è dedicare una parte delle somme dell'imposta di soggiorno per attività culturali, è un mio pallino la cultura, sicuramente per la promozione della città e la promozione delle attività turistiche e per far sì che anche altri turisti possano venire a visitare la nostra città. È mia intenzione ad esempio intrattenere rapporti con l'aeroporto di Trapani, ci sono stati già delle interlocuzioni nei periodi passati, per far sì che sempre più il turismo low cost che va a Trapani, che vola su Trapani, possa poi venire nella nostra città, nelle nostre strutture ricettive. Quindi la promozione della città in prima istanza, anche io vorrei parlare di corallo e ceramica come nostre attività da promozionare e a cui dedicare delle risorse dell'imposta di soggiorno. Devo dire tra l'altro che la previsione è che nei prossimi anni il gettito dell'imposta di soggiorno aumenta, perché l'apertura sicura del complesso Torre Macauda, che è stato chiuso da diversi anni, adesso comprato da soggetti privati, e anche con la possibile riapertura del Grand Hotel delle Terme, può portare nuovo gettito e quindi sicuramente nuove risorse da destinare alla promozione turistica. Sul Carnevale velocemente. Per la verità nel corso degli ultimi anni la spesa sul Carnevale è notevolmente diminuita attraverso anche la privatizzazione di alcuni servizi relativi al Carnevale. Ma io penso di dare sempre più forze alle associazioni che realizzano il Carnevale, quindi all'associazione di carristi, perché loro stessi possono creare forme di autofinanziamento. Io ho il mio pallino con le lotterie del Carnevale, quindi il Carnevale deve costare sempre di meno e il gettito utilizzato dall'imposto di soggiorno deve essere sempre meno rispetto al passato. Cambiamo argomento, ripartirò da Calogero Bono. Occupiamoci adesso di rifiuti, pulizie della città e decoro urbano e anche del problema delle vie di eccesso alle spiagge più frequentate della città. Partendo dai rifiuti, il tema riguarda, sì, il problema dello spazzamento, del raccolto e smaltimento dei rifiuti. Sappiamo che c'è il piano Aro. Recentemente abbiamo, però, ci siamo resi conto che per gli ingombranti c'è un problema perché la famosa isola ecologica non è più funzionante. Vorrei capire in questo senso cosa si può fare. Però quando si parla di decoro urbano si parla anche di una città che merita naturalmente di più sul piano dell'immagine che può fornire. e quindi mi riferisco al tema di cui si parla da sempre che la città è sporca. Qualcuno la sporca, evidentemente, la città. Però che cosa si può fare? Vorrei partire da Calogero Bono su questi argomenti. Rifiuti, pulizie della città, decoro urbano e vide accesso alle spiagge. Sì, intanto io vorrei partire dal nuovo piano Aro. È partito da poco più di un mese, credo proprio da un mese. Non è ancora a pieno regime perché ancora, ad esempio, non sono stati cambiati i cassonetti, non ci sono ancora in città la presenza delle casette dell'acqua, quella che è stata inaugurata in realtà non è collegata con il piano Aro. Però credo che già sia sotto gli occhi di tutti che c'è un evidente cambiamento rispetto alla gestione pubblica che c'era prima con la Sogeir. Sono ritornati a vedersi la pulizia meccanizzata, non si vedeva da anni. Però nonostante ciò, la scerbatura che è partita tra l'altro da una decina di giorni in città, nonostante ciò, la città ancora non è diciamo così al suo massimo splendore perché è evidente che ci vuole una massima collaborazione fra cittadini e pubblica amministrazione. Ci vuole in materia di pulizia della città una vera e propria rivoluzione. E io colgo occasione per fare un plauso per esempio all'associazione Sciacca Pulita con la quale va fatto un grande lavoro per la prevenzione. Quindi non si può pensare che qui ci sono 40.000 cittadini che sporcano, me compreso, e poi ci deve essere la pubblica amministrazione che pulisce. Quindi bisogna invertire i ruoli, bisogna lavorare molto sulla prevenzione, andare nelle scuole, andare negli uffici pubblici, parlare con le persone, con le attività commerciali ad esempio del centro storico fare un grande lavoro di prevenzione. E se del caso puoi passare anche alla repressione perché evidentemente se ci sono angoli della città dove vengono buttate sporcizia e ancora oggi succede questo, bisogna fare poi la repressione. Mia idea ad esempio è quella di utilizzare le telecamere che girano per la città e anche per le vie del centro storico. Per quanto riguarda il decoro, io ho un mio pallino ad esempio per il verde nel centro storico, quindi ci sono alcune zone che possono essere riqualificate utilizzando, attenzione, ad esempio c'è un bando aperto in questo momento dall'assessorato alla famiglia che scade a fine agosto dove i comuni che hanno fra 30 e 50 mila abitanti in Sicilia possono accedere a forme di finanziamento a tasso, anzi a totale fondo perduto per riqualificazione e per piccoli interventi anche se prevede il bando anche altre misure. Quindi sicuramente bisogna rendere il centro storico le vie di accesso alla città, quindi il lato est ed ovest hanno bisogno di un maggiore decoro per rendere la città più accogliente dalle persone che vengono dall'esterno. Vie di accesso alle spiagge si è fatto già qualche cosa in passato bisogna fare più soprattutto per i disabili ad esempio ci sono alcune spiagge che già sono dotate di vie di accesso per i disabili altre ancora no e ci sono anche altre spiagge che hanno difficoltà di accesso e bisogna in quel senso operare con qualche intervento. Avvocato Valenti prego rifiuti pulizie della città decoro urbano e piedi di accesso alle spiagge Sì che la città sia pulita a me non risulta in questi giorni io sono in giro per la città centro storico quartieri e in realtà non mi sembra affatto pulita basti considerare lo stesso lo stess'area portuale per dire che se questo è il piano aro siamo rovinati nel senso che bisognerà agire immediatamente per far sì che l'adempimento del contratto venga fatto in maniera diversa da quella che stiamo vedendo in questi giorni poi valutando tra l'altro quelle che sono le eventuali spese che il piano aro spese aggiuntive che sembrerebbe il piano aro in qualche modo a cui il piano aro rimanda in qualche modo con riguardo al decoro anche lì il decoro è un concetto molto ampio perché ovviamente si fonda sulla pulizia della città pulizia della città tutta la città quindi recupero di riqualificazione del centro storico pulizia di tutti i quartieri di tutte le contrade di tutte le zone balneari e in tutto questo il decoro entra pieno perché sì dobbiamo riqualificare il centro storico le vie di accesso alla città e per far questo possiamo utilizzare il posta di soggiorno peraltro l'utilizzo dell'imposta di soggiorno ha visto una commissione di cui faceva parte il dottore Bono come presidente del consiglio e per esempio l'utilizzo dell'imposta di soggiorno ai fini culturali è stato veramente esiguo perché se non ricordo male sono stati utilizzati solo 4.000 euro rispetto al gettito dell'imposta di soggiorno deve essere rivisto tutto quanto perché il decoro è anche sicurezza urbana è allora un sistema di videosorveglianza di videosorveglianza che consenta sia il ripristino e il rispetto delle regole ma soprattutto che consenta sicurezza ai cittadini tutto questo viene fatto con finanziamenti adatti perché poi peraltro ci sono dei finanziamenti proprio in materia di sicurezza urbana e quindi di videosorveglianza tutto questo viene fatto comunque anche tramite l'imposta di soggiorno perché ha una refluenza immediata per quello che riguarda il turismo e ovviamente questo riguarda anche le spiagge che ci siano spiagge facilmente fruibili da persone diversamente abili a me non risulta forse la spiaggia di Contrada Foggia ma anche lì con delle difficoltà enormi per il resto non c'è un accesso al mare che consenta alle persone diversamente abili o comunque alle persone con difficoltà di poter accedere alle spiagge anche lì a me risulta che la pulizia delle spiagge sia stata fatta in maniera del tutto sommaria non sia adeguata peraltro il piano aro prevede una pulizia ordinaria delle spiagge per 100 giorni consecutivi in una città che si vuole definire turistica la pulizia ordinaria delle spiagge solo per la stagione balneare i tre mesi della stagione balneare non è assolutamente sufficiente perché le spiagge devono essere fruibili per un ampio arco di tempo appunto perché il nostro clima peraltro lo consente e i turisti ce lo chiedono grazie cambiamo argomento riparto dall'avvocato Valenti rapporti con girgenti acque che è un tema naturalmente molto sentito dalla popolazione per tante ragioni sono giorni ancora una volta intensi ogni volta che arriva l'estate c'è sempre qualche guasto l'ultimo riguarda i pozzi carboi ma c'è anche questa questione del progetto per dotare la foggia San Marco di una rete fognante che per questioni burocratiche lo Stato prima ha dato il ruolo di commissario all'assessore regionale all'energia poi ha deciso di tornare ad avocare a sé questo ruolo fatto sta che ci sono 6 milioni di euro che si potrebbero spendere ancora non si riesce a spenderli questa è naturalmente la parte dell'attualità in generale rapporti con girgenti acque il comune che cosa può fare di meglio rapporti con girgenti acque pessimi immediatamente questo immediatamente immediatamente vanno riviste le tariffe immediatamente deve essere istituito il bonus acqua ogni cittadino ha diritto ad avere 50 litri di acqua gratuitamente al giorno per quello che riguarda i cittadini non abbienti un nucleo familiare di 4 persone ha diritto ad avere 200 litri di acqua gratuitamente al giorno cosa che deve essere immediatamente inserita così come un sistema tariffario che preveda una progressività che in questo momento non c'è perché in questo momento l'acqua è troppo costosa e tra l'altro non tiene conto neppure di tutte le indicazioni tariffarie che sono state fatte a livello nazionale in un brevissimo raggio di tempo si deve intervenire per poter risolvere il contratto con girgenti acque gli inadempimenti sono talmente tanti che ci si chiede perché mai non lo si sia fatto in questi ultimi anni d'altronde la stessa convenzione peraltro per me folle perché era di 30 anni prevede delle clausole risolutive espresse quindi delle modalità che consentono di diffidare girgenti acque e di risolvere il contratto quindi questo va fatto in un arco temporale abbastanza breve un'altra cosa ho anche devo dire pensato è una cosa alla quale stiamo lavorando io sto lavorando il servizio idrico tramite l'ambito di servizio idrico ha delle eccezioni nel senso che in realtà i comuni alcuni comuni potrebbero gestire l'acqua come acqua pubblica in autonomia a determinate condizioni tra queste condizioni vi è quello di essere un comune con meno di mille abitanti ovviamente questo non ci riguarda ma un altro invece presupposto per poter pensare di uscire completamente da quella che è l'ambito territoriale e quindi da girgenti acque è il fatto che sul nostro territorio ci sono delle fonti di acqua minerale significativamente pregiate e quindi in un'area paesaggistica che potrebbe e che si deve studiare e predisporre potrebbe portarci anche ad immaginare un percorso diverso che ci vede a riappropriarci dell'acqua veramente pubblica e da utilizzare le nostre fonti con un costo sui cittadini che diventerebbe veramente irrisorio o comunque sicuramente di molto più basso rispetto a quello attuale ovviamente il problema di girgenti acque è uno dei problemi più sentiti perché ad oggi devo dire che è intollerabile intollerabile il sistema di tariffazione intollerabile anche la gestione una gestione che vede degli inadempimenti una cattiva gestione un'inefficienza del servizio che veramente grida rispetto al costo che il cittadino deve sostenere quindi impegno immediato per risolvere questo problema dottore Boni rapporti con girgenti a contanto una replica sul precedente intervento della collega Valenti per quanto riguarda i rifiuti e la pulizia in città probabilmente la pulizia in città in questo momento non si trova nella situazione ottimale ma probabilmente la collega Valenti non si ricorda della gestione Sogeir con il fatto che non c'era la pulizia meccanizzata con il fatto che la domenica non si svuotavano i cassonetti con il fatto che la zona portuale non era sporca come adesso ma era invivibile totalmente probabilmente in zona portuale la collega Valenti qualche mese fa non c'è mai stata per verificare com'era la situazione così come la pulizia delle spiagge è vero che il contratto prevede 100 giorni continuativi ma altrettanto vero è che il contratto prevede anche degli ulteriori interventi spot per la pulizia delle spiagge in precedenza la pulizia delle spiagge non era dentro il contratto della raccolta dei rifiuti veniva fatto in appalto quindi con oneri aggiuntivi del comune quindi sicuramente meglio così si possono sempre aumentare i servizi diminuendo sempre il costo totale visto che prima si faceva in appalto per quanto riguarda i rapporti con Girgenti Acque io l'ho detto in campagna elettorale faccio la guerra a Girgenti Acque ho detto entro tre mesi divenendo componente del direttivo dell'ATI perché l'attuale sindaco è componente del direttivo dell'ATI porterò tante di quelle carte al direttivo dell'ATI perché l'ATI il soggetto titolato poter richiedere la rescissione del contratto con tutti gli inadempimenti del gestore del servizio perché sono sotto gli occhi di tutti quelli che sono gli inadempimenti da parte del gestore e l'ho fatto prendendo un impegno in pubblica piazza l'ho fatto nel comizio finale prima del primo turno di ballottaggio quando io ho detto faccio la guerra a Girgenti Acque e la faccio come la fa ad esempio il mio parlamentare di riferimento il senatore Marinello che è l'unico parlamentare del territorio che ha presentato interrogazioni parlamentari contro Girgenti Acque contro le assunzioni clientelari di Girgenti Acque nessun altro parlamentare della zona lo ha mai fatto così come ha fatto delle denunce avverso Girgenti Acque sul uso del depuratore all'ora di Agrigento ma poi anche a cascata che si è intervenuti su Sciacca quindi io sono pronto a fare la guerra contro il gestore del servizio per quanto riguarda il depuratore San Marco e Foggia il progetto è bloccato all'assessorato regionale all'energia è passato uno scoglio importante tra l'altro all'assessorato del territorio per la via VAS perché anche lì c'era un problema legato a questa tipologia di autorizzazione in questo momento è fermo all'assessorato regionale all'energia che ha un assessore a matrice PD il Partito Democratico quindi che lo si spieghi in città perché in questo momento incontrata Foggia e incontrata San Marco non si può fare la nuova rete fognante Cambiamo argomento vorrei parlare di politiche giovanili e sport nell'ambito delle politiche giovanili inserisco abbiamo deciso di inserire una riflessione di chiedere una riflessione ai candidati a sindaco su questa emergenza sociale che si sta generando che ormai ha preso piede tra i giovani su alcune cose anche tra i meno giovani mi riferisco all'abuso di alcol alla diffusione della droga e anche alla ludopatia questo gioco d'azzardo che ormai ha preso piede e poi sulle politiche sportive vorrei cominciando da Calogero Bono conoscere la sua opinione su questi argomenti sì politiche giovanili tra l'altro io nel secondo turno di ballottaggio ho modificato il mio programma elettorale così come prevede la legge destando e mostrando più attenzione verso i giovani l'ho scritto nel mio programma aggiuntivo perché ho recepito il messaggio che è venuto dalla città che ha tra l'altro premiato due forze politiche quelle di Mizzica e quello dei 5 Stelle che sicuramente hanno avuto un grande risultato da parte del elettorato più giovani quindi una grande attenzione verso i giovani tra l'altro mia intenzione è quella di di riattivare la consulta giovanile che negli anni scorsi è venuta meno perché è politicizzata dobbiamo dirlo quindi bisogna probabilmente modificare il regolamento per dare la possibilità ai giovani di avere una voce in capitolo in quelle che sono le scelte che vengono compiute dalla pubblica amministrazione per quanto attiene la prevenzione bisogna incrementare la collaborazione con gli enti preposti penso al CERT ad esempio che svolge un ruolo molto importante in città per la prevenzione un po' di tutto dall'uso di sostanze stupefacenti al stesso abuso di alcol che avviene magari in determinati periodi dell'anno penso all'estate penso al carnevale ma penso anche ai fine settimana quindi bisogna che l'istituzione comune stia più vicino alla istituzione che è demandata a fare prevenzione e poi credo anche una grande collaborazione per esempio con le scuole e con le famiglie quindi bisogna veramente fare funzionare questo connubio fra più enti e più soggetti per far sì che si faccia realmente prevenzione nella nostra città e credo che i margini e le possibilità ci siano per davvero per quanto attiene allo sport sicuramente c'è un problema in città che riguarda l'impiantistica ci sono diverse strutture che sono obsolete che ormai non sono qualcuna magari anche con delle sue criticità particolari penso al pallone tenda che io ho visitato nella giornata di ieri penso agli stessi campetti da tennis allo stesso stadio alternativo allo stesso guerriere non abbiamo un vero e proprio palazzetto dello sport quindi c'è tanto da fare sicuramente sull'impiantistica e lo stesso bando che citavo poco fa prevede anche una misura per di agevolazione per l'impiantistica sportiva so che gli uffici comunali stanno già prevedendo delle progettualità da presentare alla regione perché tra l'altro i finanziamenti sono molto cospicui si parla di 35 milioni di euro e i comuni che possono accedere sono solo 31 in Sicilia quindi la fetta potrebbe essere importante e poi una grande attenzione a tutte le associazioni sportive che fanno soprattutto dello sport che valica i confini regionali bisogna destare sicuramente più attenzione Prego Avvocato Valenti a lei la parola Sì mi permetto di replicare un attimo sugli urgenti acqua perché non credo che si tratti di battaglia politica peraltro non mi pare che abbia sortito alcun effetto la battaglia politica che è stata portata avanti dal senatore Marinello ma che invece bisogna semplicemente attivare dei meccanismi contrattuali che ci consentano concretamente di risolvere questo problema con riferimento invece alle politiche sociali che io leggo strettamente poi alle politiche sportive tutto questo ovviamente è particolare attenzione per i giovani e le leggo le politiche a favore dei giovani con le attività sportive perché secondo me è un connubio assolutamente positivo perché lo sport consente integrazione i principi sportivi consentono una sana socializzazione soprattutto la pratica dello sport allontana da tutte quelle abitudini da tutti quei problemi legati al abuso di droga e di alcol che invece i nostri giovani in questo momento hanno hanno per uno stato di disagio per la mancanza di opportunità opportunità di aggregazione opportunità di crescita opportunità di formazione opportunità di aggregazione tramite le associazioni o comunque facendo riferimento proprio ai giovani si devono creare delle possibilità di aggregazione io per esempio ho appreso che al museo del carnevale c'è una sala di incisione e allora perché mai questa sala di incisione non deve essere messa a disposizione dei giovani che vogliono fare le prove o comunque dei giovani musicisti e dei giovani artisti saccensi perché mai non si debbono creare dei centri di aggregazione anche all'ex istituto d'arte che possano consentire attività formative laboratori creativi attività di socializzazione perché mai non si deve pensare ad una scuola dello sport che mette insieme tutte le associazioni sportive e che vada a veicolare il messaggio sportivo come messaggio di crescita per le nuove generazioni e poi con riguardo alla prevenzione dei fenomeni legati all'abuso di droga e di alcol ovviamente questo passa oltre che opportunità nuove fornite ai giovani anche un'attività di formazione preventiva un'attività di formazione preventiva che può essere fatta praticamente a costo zero con convenzioni con l'università che è ben disponibile a fare queste attività sul territorio di formazione e di prevenzione con le scuole con le associazioni con il cert con gli operatori con le famiglie un'attività che può essere fatta ripeto a costo zero e che ci può consentire una formazione perché poi molte volte i giovani non sono informati neanche delle conseguenze delle terie che può portare l'abuso di alcol e di droga e quindi un'attività di formazione soprattutto un'alternativa ai giovani che possono essere interessati da cose molto più importanti per la loro crescita sono secondo me due cose che camminano assolutamente a braccetto e in questo lo sport ha la sua importanza grazie prossimo argomento riguarda la progettazione eventuale di nuove opere pubbliche e poi capire che fine ha fatto che fine potrà fare il piano regolatore generale che Sciacca aspetta da molto tempo la parola all'avvocato Valenti prego sì anche lì io non ho parlato degli impianti sportivi impianti sportivi che in realtà trovano tantissimi meccanismi di finanziamento sia per il recupero degli impianti sportivi esistenti sia per la creazione di un palazzetto dello sport non soltanto tramite finanziamenti dedicati a cui faceva riferimento il dottor Obono ma anche tramite finanziamenti attraverso l'istituto di credito sportivo attraverso il CONI addirittura vi sono delle cose che arrivano dall'Unione Europea attraverso il CONI per finanziare l'impiantistica sportiva ovviamente con riguardo al piano regolatore generale le lungaggini del piano regolatore generale devono essere in qualche modo attenzionate su quello non c'è dubbio io so che c'è stato anche un problema legato all'amministrazione uscente che ha ritardato alcuni passaggi per dei motivi che secondo me non sono del tutto validi perché si faceva riferimento alla mancanza di fondi ma per fare delle fotocopie quindi non credo che fossero delle cose significative il piano regolatore generale deve essere approvato deve essere seguito immediatamente perché poi con tutte le valutazioni ovviamente ci deve portare a svincolare questo problema enorme con riferimento alle opere pubbliche il nuovo codice degli appalti ci viene in soccorso perché abbiamo un piano triennale di opere pubbliche che consente anche un piano annuale con una possibilità che è introdotta a decorrere dal 20 maggio scorso quindi con una novità veramente attuale che dice che tutte le opere pubbliche incomplete entro un anno devono essere riqualificate non ci possono essere opere incompiute perché per ogni opera pubblica va fatta anche una possibile alternativa proprio per evitare uno spreco di fondi che possa lasciare soltanto incompiute senza la realizzazione di opere concrete quindi bisogna attuare il nuovo codice degli appalti bisogna garantire soprattutto una nuova gestione di tutto quello che ruota attorno all'edilizia attorno all'urbanistica che sia anche lì un volano economico perché in un momento di grave difficoltà lavorativa tutto questo deve diventare anche un modo per trovare lavoro e quindi per consentire a giovani e meno giovani di avere una prospettiva lavorativa concreta e proprio a questo proposito peraltro io penso che un meccanismo di tutela della mano d'opera saccenza in materia di opere debba essere assicurato dal comune oltre a questo poi c'è tutto un problema di incentivo di revisione del sistema dei regolamenti del cottimo dei lavori in economia cioè tutto quello che ruota in questo settore va attenzionato va modificato e va implementato la parola adesso al dottore Bono sullo stesso argomento progettazione di nuove opere pubbliche e piano regolatore generale una brevissima controreplica su quello che diceva l'avvocato Valenti sul fatto che le denunce e le interrogazioni parlamentari del senatore Marinello non hanno portato a niente evidentemente non conosce le cose della nostra provincia l'interrogazione a cui faccio riferimento è del 2013 è stata aperta un'inchiesta giudiziaria su girgenti acque su assunzioni clientelarie e falsi in bilancio che ha portato credo anche a dei provvedimenti di un certo tipo per quanto riguarda anche la questione del depuratore di San Leone anche lì l'apertura di un'inchiesta presso la procura di Agrigento quindi credo che le azioni del senatore Marinello abbiano raggiunto i propri effetti per quanto riguarda la progettazione di nuove opere pubbliche c'è la programmazione comunitaria con i fondi gestiti dalla regione siciliana ormai alle porte con bandi che sono aperti con altri che saranno fatte quindi occorre fare sicuramente tanta progettazione per farsi trovare pronte quando i bandi verranno emessi dalla regione siciliana e io ne ho già in mente alcuni il primo che mi viene in mente è la strada di collegamento da via Ovidio a Corso Miraglia la famosa reggia Trezzera che potrebbe consentire veramente uno sfogo una valvola di sfogo al traffico che dalla perriera arriva in centro storico opere di riqualificazione in centro storico da Santa Caterina c'è un progetto di massima che va completato ma la stessa Porta Palermo con opere di riqualificazione dell'area fuori Porta Palermo un'altra progettualità qui penso è il banchinamento della parte finale del molo interno di Levante quello che per intenderci va dalla Madonnina installata in porto verso l'esterno la parte interna grande attività va fatta su San Marco e su San Giorgio su San Giorgio ci sono i fondi che vengono dalla regione siciliana a seguito dell'alluvione quindi si sta lavorando a una progettazione che possa consentire una migliore viabilità di quella zona sfruttando i fondi che arrivano dalla regione siciliana a seguito dell'alluvione mentre su San Marco c'è una progettualità di massima che va definita in progettazione esecutiva per accedere ai finanziamenti vorrei parlare anche della banchina San Pietro che è una progettazione che va completata da parte del Genio Civile delle opere marittime di Palermo perché tra l'altro è ammessa a finanziamento quindi una grande idea di elaborazione di proposte progettuali tra l'altro io ho nominato in giunta un architetto che è esperto in materia sul PRG mi dispiace contraddire l'avvocato Valenti in questo momento il PRG è fermo all'assessorato territorio ambiente perché manca il via libera alla via VAS quindi questo è in questo momento quello che impedisce l'approvazione definitiva del piano regolatore generale poi dovrà andare al consiglio regionale dell'urbanista quindi non c'è stato nella maniera più assoluta inadempimento da parte della precedente amministrazione e pregherei di raccontare le cose per come stanno e non dire cose che non corrispondono a verità allora cambiamo argomento ripartendo da Calogero Bono perché i rapporti con la regione siciliana sono sicuramente importanti perché ci sono molti non molti diversi aspetti della vita pubblica su cui sovrintende la regione mi riferisco alle terme alla sanità alla vicenda che riguarda anche il vecchio ospedale che come abbiamo avuto modo anche altre volte di dire credo che sia il peggiore dei biglietti da visita possibili considerato che siamo proprio all'ingresso della città di Sciacca vorrei capire su questo l'opinione di Calogero Bono terme e sanità e poi naturalmente sarà la volta della sua avversaria innegabile che la regione siciliana nella sua attività è un vero e proprio disastro e il comune di Sciacca e penso anche gli altri enti territoriali lo scoprono di volta in volta hanno a che fare con la regione siciliana la questione terme aperta nella città di Sciacca il 6 di marzo del 2015 quando il governatore Crocetta il presidente della regione invia un suo funzionario all'assemblea dei soci della terme di Sciacca SPA per chiudere e bloccare le attività gestionali ordinarie vero è che le terme avevano difficoltà perché perdevano milioni di euro ogni anno per la precisione un milione e otto un milione e nove ogni anno però è pur vero che avrebbero dovuto trovare una soluzione tampone fino ad aspettare la emanazione di un bando quello per la gestione trentennale questo non è stato fatto se ne sono letteralmente fregati della città di Sciacca nonostante visite di parlamentari alla regione siciliana di tutto l'arco costituzionale e mi riferisco di tutti i parlamentari che sul territorio si sono dati da fare io stesso ho partecipato a diversi incontri con il governatore Crocetta e l'assessore Baccei presenti onorevoli di questo territorio di tutto l'arco costituzionale dal PD ai 5 Stelle anche alla stessa alternativa popolare che erano presenti se ne sono fregati letteralmente hanno tirato dritto per la loro strada lasciandoci chiuse le terme salvo poi scoprire proprio in campagna elettorale la dichiarazione la procedura di liquidazione sta per terminare di qua a qualche settimana io aspetterei queste settimane per capire se realmente poi daranno le terme in uso al comune di Sciacca per fare il bando perché la legge dice l'assessore regionale può dare il complesso termale in concessione al comune di Sciacca per fare poi il relativo bando quindi regione siciliana un disastro sulla gestione della questione terme per quanto riguarda l'ospedale mi viene da dire per fortuna che il livello è stato anche superiore perché il piano sanitario il piano della rete ospedaliera della regione siciliana veniva sia elaborato dall'assessorato regionale alla sanità ma mandato al ministero competente per la sua valutazione complessiva per poi essere approvato definitivamente dall'assessorato regionale alla sanità e se mi consentite proprio nelle settimane in cui si stava approntando il piano sanitario a Sciacca è venuto il ministro della salute di alternativa popolare il ministro Beatrice Lorenzini che ha preso dei precisi impegni con il territorio valutando oggettivamente il piano sanitario regionale per fortuna poi la regione si è decisa a salvare l'ospedale di Sciacca come ospedale Dea Spock di primo livello è chiaro che l'ospedale ha anche altre criticità per quanto riguarda il vecchio ospedale la regione lo vuole vendere per 8 milioni di euro se troviamo qualcuno che se lo compra probabilmente risolveremmo il problema prego avvocato Valenti brevemente una replica alle nuove opere pubbliche a cui si faceva riferimento in realtà non è così semplice perché le opere poi devono tenere conto dei finanziamenti per poterli realizzare per esempio sentivo che con riguardo a San Giorgio si parlava dell'utilizzo dei fonti dell'alluvione per ripristinare la viabilità cosa che oggettivamente non è possibile perché la viabilità di San Giorgio è talmente complessa peraltro e necessita di interventi talmente ampi e significativi che certamente le risorse le probabili risorse che vengono e che arriveranno a seguito dell'alluvione non serviranno assolutamente a nulla perché lì invece ci vuole un intervento molto più significativo che passa dal piano regolatore generale ed eventualmente da un piano di recupero o un'opzione diversa che riguarda poi una cessione a titolo gratuito per poter ripristinare quella che è la viabilità viabilità che tra l'altro non riguarda solo San Giorgio non riguarda solo San Marco ma riguarda io ricordo tutta la viabilità rurale con riferimento alle terme invece le terme verranno assolutamente riportate al comune di Sciacca io ho incontrato perché è venuto il ministro De Vincenti a quale è stato rappresentato il problema terme io ho parlato con l'assessore Baccei io mi sono messa in contatto con Feder Terme che fa parte di Confindustria e di Feder Turismo e che è associata alla federazione mondiale del termalismo e del climatismo e quindi io ho avuto certezze sul fatto che tutto il patrimonio del complesso termale verrà concesso al comune di Sciacca nel giro di qualche settimana e che poi il comune di Sciacca non sarà neppure lasciato solo nel senso che verrà anche aiutato nella preparazione del bando di evidenza pubblica per poter andare a gestire e quantomeno a rivalutare e a riaprire questo complesso termale ovviamente bisognerà fare un bando che vada a tutelare gli ex lavoratori delle terme soprattutto un bando che vada a tutelare la manodopera saccenze perché è logico che la manodopera saccenze deve avere un suo utilizzo nell'ipotesi in cui si debba poi ristrutturare di lavoro ce n'è tanto se pensiamo all'intero complesso termale peraltro non solo verrà dato al comune di Sciacca per un periodo molto lungo perché addirittura si parla di 50 anni ma ci sono anche dei vincoli di destinazione in particolare con riguardo al convento San Francesco un vincolo di destinazione di una parte a museo per tutte le bellissime opere d'arte che hanno le terme e che ovviamente possono andare ad essere recuperate in una visione di turismo che certamente per noi serve con riferimento al vecchio ospedale comunque anche su questo io credo che si debba lavorare sul vecchio ospedale ma anche sul Santa Margherita per poter trovare una convenzione un meccanismo che porti all'utilizzo da parte del comune senza l'esborso delle cifre a cui faceva riferimento il dottore Bono se c'è qualcos'altro che vuole aggiungere magari lo farà nello spazio successivo in cui adesso le chiedo di parlare di questo tema che riguarda le politiche sociali ma anche il lavoro che riguarda le attività produttive e poi una cosa di cui parlano in pochi il comune deve garantire diversi servizi però il comune ha una pianta organica che si è ridotta all'osso si può dire dimezzata nel giro di pochi anni perché la legge ha impedito anche il turnover per ragioni che tutti conosciamo prego lei la parola sì il lavoro lavoro è argomento diciamo fondamentale non di campagna elettorale ma fondamentale per la sopravvivenza della nostra città cosa si può fare cosa può fare il comune per il lavoro alcune cose si sono già dette tutelare la mano d'opera saccenze nell'ipotesi in cui venga predisposto il bando per le terme tutelare la mano d'opera saccenze per le opere che comunque verranno iniziate assicurare io ho parlato di una revisione o di una corretta applicazione del regolamento in materia di lavori in economia e cottimo fiduciario perché si deve assicurare un'effettiva turnazione che mi pare negli ultimi anni non ci sia stata nel senso che tutti devono avere le stesse opportunità lavorative e quindi si deve assicurare per tutti la possibilità di roteare in quelli che sono gli interventi che il comune può gestire in economia quindi per i lavori fino a 40.000 euro e col cottimo fiduciario che sono i lavori addirittura fino a 200.000 euro si prevede che vengano invitate cinque ditte non si prevede nel regolamento che ci debba essere una tornazione tra le ditte che devono essere invitate si deve sostenere il lavoro tramite lo sportello di microcredito che possa andare a formare ad aiutare a fare i progetti per ottenere il microcredito per le microimprese e questo anche con riguardo ai giovani si devono andare a trovare tutti i meccanismi di promozione anche nell'ambito delle nicchie che consentono una promozione del territorio e un'opportunità di lavoro sia in materia di agricoltura con riferimento a agricoltura ai fini di fitofarmaci ormai ci sono tutte queste nuove filiere agricole che sono poco conosciute ma che consentirebbero invece delle opportunità lavorative sia con riguardo alla pesca con il pescaturismo con l'ittiturismo con un'attività di promozione del pescato con una valorizzazione di un marchio di provenienza con degli accordi e delle convenzioni con le menze ospedaliere con le menze scolastiche con i servizi di ristorazione tutto un supporto per le attività un supporto per le attività che non deve dimenticare ovviamente tutto il comparto dell'artigianato promozione del territorio significa promozione delle eccellenze artigianali con eventi con manifestazioni che comunque creino lavoro e che comunque promuovano artigianato corallo ma io penso anche all'industria ittico-conserviere al prodotto degli ittico-conservieri e poi comunque tutta un'attività che vada a sostegno dell'artigianato io ho inserito nel mio programma delle modalità nuove di fare artigianato delle modalità che passano dalla condivisione di spazi cioè spazi condivisi che possano permettere di abbattere i costi di utilizzare delle strutture e che quindi poi addirittura incidono positivamente anche i fini fiscali dottore buono tanto gli argomenti sono tre politiche sociali lavoro e la questione che riguarda il comune per quanto attiene le politiche sociali è sotto gli occhi di tutti che viviamo momenti particolarmente difficili da un punto di vista economico e quindi sociale e il comune deve svolgere un ruolo sotto questo punto di vista centrale tra l'altro sia la regione che il governo centrale aiutano tantissimo gli enti locali con una finanza che poi possa essere utilizzata a favore delle persone che ne hanno più di bisogno attualmente ad esempio c'è un progetto il SIA un servizio di inclusione sociale il comune di Sciacca è destinatario di un finanziamento di un milione e 600 mila euro attraverso il quale le famiglie fanno una sorta di assistenza loro stessi ai soggetti che ne hanno di bisogno parlo di soggetti svantaggiati ma anche di soggetti che non hanno un lavoro quindi una grande attività da parte tra l'altro dell'ufficio del comune delle politiche sociali che si regge su poche persone e che tra l'altro collegandomi al terzo argomento necessita sicuramente di un rafforzamento perché molto spesso gli uffici non riescono ad andare avanti ad andare appresso alla possibilità di avere accesso ai finanziamenti perché ci vuole risorse umane per presentare i progetti quindi c'è una grande attività del comune grandi risorse quindi c'è grande possibilità di poter dare risposte ai cittadini nel sociale con diverse azioni e misure che vengono messe in campo da parte dei governi superiori per quanto riguarda il lavoro e attività produttive io ho parlato spesso in campagna elettorale che il comune può fare molto poco per quanto riguarda il lavoro può dare sostegno al mondo dei lavoratori da un punto di vista diciamo così istituzionale il mio pensiero va per esempio agli LSU ai contrattisti del comune molto è stato fatto in questi anni e negli anni a venire ci sono importanti scadenze per questi soggetti mi riferisco ad esempio a una battaglia che ho portato avanti insieme con l'amministrazione comunale con i lavoratori stagionali che operano nel nostro territorio ma a livello nazionale che hanno avuto diciamo delle criticità legate al cambio della normativa sulle indennità di soccupazione siamo anche andati a Roma a confrontarci con il governo ma una grande attenzione verso il mondo delle attività produttive perché sono i veri soggetti che poi creano lavoro e la mia attenzione all'edilizia soprattutto che è un settore che vive momenti di difficoltà l'agricoltura la pesca all'artigianato al commercio bisogna aiutarli ad esempio ad accedere alla finanza agevolata perché possono creare nuova occupazione per quanto riguarda il comune si trova sicuramente in difficoltà in carenza di organico la norma tra l'altro non prevede nuove assunzioni se non nel limite del 50% delle persone che sono andate in pensione e in questa direzione è mia intenzione fare un piano di assunzioni ci faccio uno sconto di 5 secondi nella prossima risposta edilizia scolastica che è un tema molto importante per tante ragioni insomma i nostri figli frequentano le scuole ci sono state delle emergenze recentemente che una riguarda la scuola elementare il Plesso San Francesco del quarto circolo ovvero istituto Dante Ligieri come si chiama adesso ospite ancora nella chiesa dei Cappuccini bisogna ringraziare naturalmente frati che hanno dato ospitalità però non si capisce fino a quando questo sarà possibile e poi la vicenda che riguarda anche l'ex asilonido di Via del Sole che ha avuto un utilizzo di scuola materna del primo circolo e che adesso è chiuso da anni non si capisce quando potrà essere riqualificato la parola al dottore Bono su questi argomenti ma intanto e naturalmente non solo anche altre scuole sull'adilizia scolastica credo che negli ultimi anni si sia fatto tanto perché ci sono state tantissimi bandi sia da parte del governo centrale che della regione e ci sono anche notizie che nei prossimi anni ve ne saranno altrettanto perché c'è grande attenzione da parte dei governi superiori per mettere in sicurezza gli istituti scolastici ad esempio ci sono attualmente due lavori in corso una che riguarda un istituto di infanzia di Via delle Magnolie c'è un lavoro in corso così come la palestra della scuola Mariano Rossi è in questo momento il tetto della palestra è in questo momento oggetto di lavori per un totale di 170 mila euro per quanto riguarda il Plesso San Francesco ne conosciamo la storia cosa è accaduto tanti anni fa poi c'è stato l'intervento dei padri Cappuccini che si sono messi a disposizione è chiaro che bisogna trovare un locale nella immediata vicinanza di Via Cappuccini perché il Plesso San Francesco copre la parte ovest della città e quindi tutti diciamo le famiglie si rivolgono a questo Plesso perché evidentemente possono accompagnare i propri figli nelle immediate vicinanze quindi occorre immediatamente fare un bando perché i padri Cappuccini ogni anno creano dei problemi la scuola probabilmente ha anche delle sue criticità che le conosciamo tutte cosa è accaduto questi sappiamo tutti cosa è accaduto quest'inverno quindi occorre trovare un nuovo locale da approntare immediatamente per far sì che le famiglie che si trovano in questa parte di città possono trovare la loro collocazione scolastica per quanto riguarda l'asilo nido di via del sole in questo momento il comune ha presentato un progetto presso l'assessorato regionale competente alla famiglia con un bando emesso credo 7-8 mesi fa siamo in graduatoria e sembrerebbe che siamo collocati in una posizione utile quindi di qua a qualche settimana ci potrebbe anche essere la notizia positiva del finanziamento di ristrutturazione dell'ex asilo nido di via del sole e chiudere una questione che è probabilmente decennale adesso non ricordo con esattezza quando la scuola è stata chiusa ma probabilmente saranno una decina d'anni o poco o giù di lì altre due cose voglio dire sulla situazione scolastica il prioritario è sicuramente l'intervento della scuola materna di infanzia di fronte all'ex caserma dei carabinieri chiusa qualche tempo fa per un problema al tetto così come io penso anche a una scuola incontrata a ferraro perché ormai si è diciamo espansa in maniera tale che di lì ci potrebbe essere la necessità di una scuola dell'infanzia prego scuola prendo proprio qualche secondo con riferimento alla domanda che abbiamo fatto prima cioè con riferimento alla pianta organica del comune quindi al problema diciamo dell'amministrazione comunale premesso che va cambiato il meccanismo di lavoro all'interno dell'amministrazione comunale con dei meccanismi diversi che vadano per obiettivi in maniera trasversale è ovvio che il recupero di coloro che sono in una posizione di precariato è necessario necessario non soltanto per la posizione personale di questi lavoratori ma perché diventerebbe un enorme problema per il comune che si regge su questi soggetti su queste professionalità di cui assolutamente non potrebbe fare a meno quindi ovviamente questo è un impegno preciso che va assunto per tutti i lavoratori contrattisti precari a diverso titolo così come però l'impegno va assunto per una rivisitazione della macchina amministrativa che debba diventare assolutamente più efficiente e soprattutto valutata e valutabile da parte dei cittadini con riferimento all'edilizia scolastica concordo sul fatto che ci sono diversi meccanismi di finanziamento perché addirittura sono previsti dal governo nazionale 700 milioni di euro 300 milioni di euro per l'edilizia scolastica quindi sicuramente le possibilità di accedere a dei finanziamenti in realtà c'erano anche nei mesi scorsi ci saranno in questi mesi nei mesi futuri e il fatto che si debba istituire un team di persone competenti ad intercettare i finanziamenti serve ovviamente anche per questo fine non è soltanto un problema però solo di edilizia scolastica è un problema che è più ampio e che riguarda la scuola la scuola è stata completamente dimenticata la scuola non ha fondi di funzionamento la scuola si porta avanti solo grazie al contributo delle famiglie che si autotassano per dare il minimo indispensabile ai propri figli per poter svolgere un'attività didattica idonea e soprattutto per poter vivere idoneamente all'interno delle scuole tutto questo non è più tollerabile perché un'amministrazione che dimentica la scuola è un'amministrazione che dimentica che la scuola è proprio ciò da cui si parte per il futuro per i bambini per i ragazzi per i giovani quindi assolutamente il meccanismo di sostegno a quella che è la scuola è un meccanismo che riguarda l'edilizia scolastica ma che non riguarda solo l'edilizia scolastica perché riguarda tutto il funzionamento della scuola e tutte quelle che sono anche le opere di piccola manutenzione di cui la scuola devo dire soffre per mancanza di sostegno da parte del comune e peraltro a questo riguardo io mi permetto anche di dire che le scuole sono dotate di impianti fotovoltaici alcune scuole sono dotate di impianti fotovoltaici che non sono stati però messi a regime non sono stati attivati con uno spreco enorme di soldi per energia e con uno spreco enorme perché a questo punto una volta che gli impianti ci sono sarebbe necessario indispensabile opportuno farli funzionare allora siamo in conclusione e in conclusione ripartendo dall'avvocato Valenti aveva cominciato buono conclude Valenti diciamo nel senso inizia la risposta alla Valenti vorrei chiedere un appello finale al voto e ovviamente un giudizio politico sull'avversario perché lo chiediamo perché è chiaro che nell'appello al voto bisogna spiegare perché uno chiede il voto per sé e quindi non per l'avversario prego avvocato Valenti un appello al voto io devo dire che mi appello a tutte le persone che ritengono che in questo momento non si stia bene nella nostra città e dico nella nostra città perché ancora qualcuno ritiene e sostiene che io non sia e che non appartenga a questa città invece io ci vivo a parte esserci nata a parte avere fatto i miei studi a Sciacca ci vivo da vent'anni a Sciacca ho la mia famiglia vedo crescere i miei figli a Sciacca lavoro quindi io mi considero saccensa a tutti gli effetti per amore di questa città io mi sono messa a disposizione il mio fine è solo ed esclusivamente il bene di questa città io credo che non sia possibile continuare così come si è fatto negli ultimi anni io dico no ad altri cinque anni così e per questo io mi appello a tutti e a tutti quelli che hanno anche espresso un voto di protesta perché il voto di protesta significa disagio sicuramente significa non condivisione dell'operato della vecchia amministrazione l'altra componente politica che si propone io la vedo del tutto continuativa rispetto all'amministrazione uscente non vedo nessuna soluzione di continuità e per questo credo che i cittadini dovrebbero invece provare a cambiare perché è necessario cambiare è necessario modificare la logica io ho detto anche che bisogna cambiare la logica amministrativa io penso e sto lavorando a mettere assieme vicini agli assessori quelli che chiamo i consulenti della città si deve trovare un meccanismo di collaborazione tra cittadini tra amministrati e amministrazione che non sia soltanto sporadico tramite quelli che possono essere le interlocuzioni sporadiche ma che sia invece stabile con delle persone che gratuitamente lavorano insieme al sindaco insieme agli assessori con delle professionalità con delle persone di esperienza che mettano a servizio la loro professionalità e la loro esperienza per poter agire dal punto di vista amministrativo quindi una nuova logica di amministrazione un avvicinamento tra i cittadini e l'amministrazione che per me è assolutamente insostituibile come visione di città una sciacca che ritrovi quella centralità che io ritengo invece non abbia perché io non penso che siamo in una situazione positiva che possa essere colta positivamente tutt'altro tant'è vero che io ho scelto di mettermi a disposizione e di scendere in campo proprio nella logica non ad altri cinque anni così e sotto questo punto di vista credo che rispetto al nostro progetto di governo al nostro progetto amministrativo non ci sia un'alternativa perché l'alternativa che ci propone l'altra componente è sicuramente un'alternativa di assoluta continuità rispetto all'amministrazione uscente prego dottore Bon sì l'appello finale mio è rivolto a tutti gli elettori a tutti i cittadini di questa città io ho detto subito dopo il primo turno delle elezioni che il risultato che si è manifestato è diciamo tale da dover parlare alla città in un modo diverso rispetto a come avevamo fatto in precedenza c'è stato un risultato dove il 40% dei cittadini hanno scelto due forze politiche che intendevano protestare con le loro proposte e quindi ne abbiamo preso atto io ho modificato il mio programma elettorale rivolgendomi al mondo dell'associazionismo ai comitati di quartiere alla società civile voglio parlare alla gente ho girato in lungo e in largo la città in queste settimane e lo sto rifacendo ancora oggi dai quartieri di San Michele dalla Marina alla Portavagno al centro storico a Porta Palermo alle pariferie io ho incontrato i cittadini della mia città ho parlato con loro a lungo ho spiegato le ragioni della mia e della nostra proposta politica guardandoli in faccia e parlando di quello che vogliamo fare se dovessimo guidare la città ho tra l'altro recependo il messaggio elettorale del primo turno fatto una squadra di tecnici io ho tre tecnici su cinque nella mia squadra gente che viene dal mondo delle professioni dalla società civile e dal mondo delle professioni quattro su cinque della mia squadra assessoriale sono persone che non hanno mai fatto politica o non hanno fatto politica negli ultimi 15-20 anni la mia è una squadra nuova non è una squadra in continuità nonostante l'avvocato Valenti voglia ribadire questo concetto e lo fa più volte io sono stato presidente del consiglio comunale negli ultimi cinque anni ho guidato il massimo consesso di questa città facendolo credo con grande dignità e con grande rispetto del mio ruolo istituzionale e non ho mai fatto amministrazione in questa città quindi io mi presento come leader di una squadra nuova di cui quattro dei cinque consiglieri comunali sono nuovi riguardo invece all'altra squadra mi dispiace dire che guarda caso quattro su cinque componenti della squadra assessoriale del candidato sindaco Valenti guarda caso sono gli stessi sostenitori politici dell'amministrazione di Vito Bono e allora bisogna dire le cose come stanno per nome e cognome allora se l'avvocato Valenti insiste nel dire che io non sono la continuità dell'amministrazione di Paola credo di poter dire parlando con i fatti che il candidato sindaco Valenti ha la stessa compagine assessoriale del sindaco Vito Bono che guarda caso fu mandato a casa proprio dalla sua stessa parte politica tempo è scaduto io vi ringrazio ringrazio Calogero Bono ringrazio l'avvocato Francesca Valenti ringrazio voi che ci avete seguito e naturalmente saranno giorni intensi si concluderà la campagna elettorale venerdì alle 21.30 comizierà il dottor Calogero Bono in piazza Angelo Scandaleato alle 22.30 il comizio di chiusura dell'avvocato Francesca Valenti grazie a tutti arrivederci grazie a voi grazie a tutti